La serranda di Velta, i vetri rotti, l'interno semidistrutto. Le indagini sono in corso ma ci sono pochi dubbi che sia stato un attentato incendiario quello avvenuto la notte scorsa presso la sede dell'ufficio politico di Mirko Coratti, ex presidente dell'Assemblea del Campidoglio, autosospeso dal PD dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati nell'inchiesta su Mafia Capitale. Gli inquirenti hanno trovato tracce di liquido infiammabile, l'ipotesi più probabile che qualcuno si sia introdotto all'interno del locale per incendiare la sede nel quartiere romano della Bufalotta Montesacro dove Coratti è nato e cresciuto politicamente. La procura di Roma indaga per incendio doloso, l'attentato che non ha provocato feriti sembra un avvertimento, una intimidazione. Episodio inquietante da condannare con fermezza, ha detto Matteo Orfini, presidente dell'Assemblea Nazionale del PD, nominato da Renzi commissario del partito nella Capitale proprio sulla scorta dello scandalo per corruzione e malaffare suscitato dalla prima grande retata dell'inchiesta sul cosiddetto mondo di mezzo. Temevamo che potesse accadere, hanno ammesso sul posto, altri militanti del PD. Ma perché Coratti è finito nel mirino? E' una delle più emblematiche intercettazioni ambientali dei carabinieri del ROS. Secondo gli inquirenti dimostra la necessità per il sodalizio criminale guidato da Massimo Carminati con l'aiuto del Dominus delle Cooperative Buzzi di trovare nuovi interlocutori dopo il cambio di maggioranza al Campidoglio con l'avvento dell'amministrazione marino. Le figure di maggior significato in questo senso, si legge nell'ordinanza del GIP, sono il presidente dell'Assemblea Capitolina Coratti e il capo della segreteria Figurelli, interessati da Buzzi per ottenere il bando sulla gara del lama, sbloccare pagamenti sui servizi sociali forniti dal Comune di Roma, pilotare la nomina di un nuovo direttore di dipartimento gradita al clan. Figurelli sarebbe stato il tramite per consentire a Buzzi di incontrare Coratti, previo pagamento di 10.000 euro. Me so' comprato Coratti, dice a bassa voce Buzzi in un'altra conversazione intercettata e ancora parlando con Claudio Caldarelli, suo braccio destro, assessore alle politiche sociali, Buzzi afferma, io devo pigliare 3 milioni, se mi fai pigliare 3 milioni, 150 sono tuoi. 150.000 euro sostengono gli inquirenti promessi a Coratti per sbloccare un pagamento di 3 milioni sul sociale. zobaczyれ un salto per sbloccare unなんか, Grazie a tutti